Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Fio e questo è il canale della mela avvelenata. Il caso di cui vi parlo oggi è un caso che molte volte ho incrociato, però ho sempre lasciato da parte perché non mi sembrava così interessante. Quando mi sono decisa finalmente a portarvelo, sono rimasta scioccata, cioè mi ero persa ad avere un caso molto particolare e quindi oggi recupero. E' l'estate del 1970, è domenica 30 agosto per la precisione. E questa domenica qui una donna di nome Viglia si trova ancora in villeggiatura in un paesino vicino alla capitale, vicino a Roma. E' molto tranquilla e molto serena quando riceve una telefonata che l'obbliga a rientrare precipitosamente a Roma. A Roma abita sua sorella che si chiama Anna Fallarino e suo marito Camillo Casati Stampa. Una coppia molto elegante che abita ai Parioli, nell'elitario quartiere del Pincio e per l'esattezza in un attico a due piani in via Puccini 9. Un posto davvero esclusivo con fenicotteri impagliati, salottini e sali da gioco. Un appartamento, credetemi, che pochi possono permettersi e che sicuramente Camillo Casati Stampa può permettersi dal momento che è un marchese. Camillo Casati Stampa di Soncino, detto Camillino, classe 1927, nobile era un pollo di una delle più antiche casate patrizie milanesi che all'epoca, tra tenute lombarde e caseggiati capitolini, contava su crediti azionari per centinaia di milioni di lire. Ma quel giorno, in quella casa adorata, qualcosa è successo. I due padroni di casa sono chiusi a chiave dentro al salone dello splendido attico in un silenzio assoluto da troppo tempo. Per questo i domestici davvero preoccupati chiamano Viglia Spanò, la sorella della Marchesa Anna. Il personale di servizio infatti ha il divieto assoluto di entrare in una stanza se la porta è chiusa, a meno che dall'interno non provenga l'autorizzazione a farlo. Non possono dunque assolutamente disubbidire agli ordini, ma quel silenzio è davvero troppo innaturale. Quindi stanno dietro la porta a torcersi le mani senza sapere bene che cosa fare. Arriva Viglia, la sorella di Anna, e solo allora i domestici spalancano l'uscio. La donna fa pochi passi e poi inizia ad urlare come nel peggior film dell'orrore. Nel meraviglioso salottino giacciono tre corpi senza vita. Il Marchese, Camillo Casatistampa, di 43 anni, sua moglie Anna, la bellissima Marchesa, di 41 anni, e un giovane amico della coppia, sui 25 anni. La Marchesa è riversa su una poltrona, sembra quasi viva perché è seduta compostamente, con le gambe incrociate e le mani in grembo e con il volto sereno. Ma ha del sangue sul collo, sul braccio, sul petto, quindi non ci sono molti dubbi. Poi c'è quel misterioso ragazzo che giace per terra insieme al Marchese, non meglio identificato. E la scena è davvero agghiacciante, una mattanza, una carnificina esplosa fra i fenicotteri impagliati, il raso e l'argenteria della stanza. Pezzi di materia cerebrale penzolano dai meravigliosi quadri cinquecenteschi e le pareti. Qualcosa che davvero ti fa rivoltare gli occhi. Ma cosa diavolo è successo in quella stanza? Perché i Marchesi sono morti? E chi è e che cosa c'entra quel giovane a terra? Il primo a raggiungere la scena del crimine tra gli addetti e lavori è Valerio Gianfrancesco, capo della squadra mobile. Raggiunge questo splendido attico e dichiara in seguito che per lui fu un vero shock. Avendo letto i nomi, la zona e avendo visto il lusso dell'abitazione, era convinto di trovarsi di fronte ad un tentativo di rapina, a caso mai di un sequestro che negli anni settanta andavano per la maggiore. Invece no, era un giallo in stile Agatha Christie, un rompicapo particolarmente cruento. È costretto a riprendersi dallo shock perché è pur sempre il suo lavoro e quindi inizia ad analizzare la scena e subito trova l'arma che è lì alla vista di tutti. Una carabina Browning calibro 12 a ripetizione, uno stramaledetto fucile a pompa. Escludono che si tratti di un domestico, hanno tutti un alibi e sono tutti lì presenti nella stanza. Ed è anche difficile immaginare che l'assassino scappi per poi lasciare lì in bella vista l'arma del delitto. No, l'unica spiegazione plausibile per quella scena è che l'assassino sia ancora lì in mezzo a loro ed è uno di quei tre corpi privi di vita. Ma allora tra i tre chi è l'assassino e chi sono le vittime? Prima di tutto scoprono l'identità di questo giovane sconosciuto che si chiama Massimo Minorenti, ha 25 anni ed è un caro amico della Marchesa Anna. Massimo è bello, è squattrinato, studia la facoltà di scienze politiche ma ultimamente senza troppo entusiasmo. Bazzica molto spesso nei circoli mondani e ultimamente in particolare a casa casati stampa. I domestici raccontano che quella domenica Massimo aveva un appuntamento con i loro signori. Il Marchese Camillo era arrivato sulle 18 direttamente da una battuta di caccia, mentre Anna e Massimo erano arrivati insieme alle 19. Un incontro finito in tragedia, a quanto pare. Ma perché? Probabilmente per soldi. Massimo è uno studente fuori corso, senza un soldo, e magari ha approfittato troppo della generosità dei Marchesi. Magari ha minacciato la coppia. Magari c'è stato un litigio che è finito in tragedia. Eh sì, all'occhio la scenetta quadra. Un vitellone capellone, così venivano chiamati negli anni 70 i giovani con tanti capelli, come se fosse un reato, che rovina una coppia altolocate per bene. Questi capelloni hippie, così venivano chiamati, e così venivano definiti dalla società al tempo, erano per tutti i viziosi, i viziati, magari perché no, anche degli assassini. Però, basta analizzare la scena del crimine per capire che qualcosa non quadra. Massimo si è tolto la vita disperato, giusto? Beh, sbagliato. Massimo ha un colpo alla schiena e uno alla nuca. Quindi, come ha fatto, a meno di non possedere il braccio di Gadget, è molto difficile che lui sia riuscito a spararsi dietro. Non ha sparato lui. Forse allora è stata la Marchesa. La Marchesa, infatti, sa usare molto bene il fucile e va spesso a caccia col marito. Magari, folle di dolore per la perdita del marito, appena trucidato sotto i suoi occhi, riesce ad impossessarsi del fucile e spara all'ex amico. Quindi Massimo spara al Marchese, la Marchesa a Massimo, e Anna? Chi uccide Anna? Si sarà uccisa lei? No? No. Anna ha tre colpi di fucile addosso, ma il fucile è molto lontano da lei. Dovrebbe averlo in grembo, invece sembra seduta come se dovesse sorseggiare un tè. Il fucile è molto più distante da lei. Attenzione, attenzione. È proprio vicino al Marchese Camiglino. La scena non lascia dubbi. È proprio il gentile e inappuntabile Marchese ad aver premuto il grilletto, a quanto pare. È lui che ha ucciso quel giovane uomo e soprattutto la sua adorata moglie Anna. La polizia ora deve trovare il movente di questo grattacapo, di questo folle gesto, nascosto sotto a quella spessa patina borghese. Perquisisce a fondo l'attico, interroga amici conoscenti e domestici della coppia. E uno di questi amici, che conosce molto bene le abitudini del Marchese, racconta che quella carabina lì, il Marchese, non l'aveva in dotazione quando andava a caccia, ma che l'aveva presa proprio da una vetrinetta in casa, dove era custodita. Poi sullo scrittorio della scrivania trovano una busta e sopra la calligrafia del Marchese, che ha vergato un nome. Anna. Dentro c'è una lettera che racita più o meno così. Muoio, perché non posso sopportare il tuo amore per un altro. Quello che faccio lo devo fare, perdonami, e qualche volta vienimi a trovare al cimitero intende. Quindi questo è un lascito, è un testamento. Il Marchese inizialmente non intendeva uccidere, ma solo togliersi la vita, o almeno così sembra. Il movente scritto nella lettera, e più chiaro di così non può essere, tradimento, gelosia. E per non saperne leggere né scrivere, Anna doveva avere una relazione per forza proprio con quel bel giovane dai lunghi capelli, Massimo. Anche lui infatti condivide in quel salottino quel triste epilogo di sangue. Quindi qualcosa per forza deve centrare. Eh sì, ultimamente a quanto pare Anna aveva una relazione con questo bel giovane, spiantato, affascinante, con lunghi capelli e jeans stretti. La società, come vi ho detto, li chiama cappelloni, addirittura straccioni, pezzenti. Insomma, non ci vanno leggeri all'epoca sull'argomento. Dicono addirittura straccioni pezzenti nei cinegiornali, quindi proprio la collettività disapprova questo stile di vita da hippie. Al di là del cappello lungo, che non mi sembra essere un reato, Massimo non è né un pezzente né un povero diavolo, anzi, è un ragazzo molto ambizioso. Partecipa a molte feste, vorrebbe sfondare nel cinema, vorrebbe fare l'attore, ma poi non ha voglia di studiare il copione. È un bel furbetto, uno di quelli che si mette d'accordo nei locali col proprietario per farsi chiamare al microfono e attirare su di sé gli sguardi delle sue prede. Ogni occasione, Massimo, l'accoglie e la sfrutta al massimo. Come sfrutta al massimo il suo incontro con la splendida Anna, la Marchesa? Dunque, quasi sicuramente Anna e Massimo hanno una relazione, una tresca, magari si sono addirittura innamorati e Camillo, uomo di altri tempi, non può immaginare una vita senza di lei e decide di attuare il suo piano. Quindi cosa ipotizzano gli inquirenti? Inizialmente, pensano che il Marchese Camillo abbia organizzato molto bene il suo piano nei minimi dettagli, ragionandoci a lungo, quindi non è un raptus l'idea di chiudersi dentro a quel salotto. Però, inizialmente, aveva pensato ad una chiusura in bellezza, passatemi il termine. Quel 30 agosto il Marchese è a una battuta di caccia in provincia di Vicenza. La sera rientra a casa, chiede un succo di pompelmo e si ritira nel salotto. Aspetta sua moglie Anna e un loro amico, Massimo, e informa la servitù del loro arrivo dando precise istruzioni. Una volta arrivati, nessuno deve disturbarli, bussare alla porta o aprirla per nessun motivo. Arriva, mentre Camillo aspetta nel salotto, ha anche la figlia di primo letto di Camillo, la figlia del primo matrimonio, Anna Maria, a cui Camillo è molto legato. Vorrebbe vedere il suo papà, ma lui le fa dire che è molto occupato e che si vedranno più tardi. Camillo quindi rimane da solo per circa un'ora in quel saluttino e i domestici si rendono conto che è molto nervoso. È molto agitato perché passeggia avanti e indietro per la sala. Anche gli amici della battuta di caccia confermano che Camillo il giorno prima era agitato. Dopo una conversazione telefonica con la moglie Anna era apparso sconvolto e loro se ne erano accorti. Sempre secondo la ricostruzione della polizia, Camillo continua a camminare avanti e indietro nel salotto. Poi tira fuori una carabina dalla vetrinetta e carta e penna per scrivere. Intorno alle 19 arrivano Massimo e Anna che vengono accompagnati come da istruzioni nel salotto. La porta si chiude dietro di loro per sempre e nessuno uscirà più vivo da lì. I domestici sono terrorizzati quindi sentono questi rumori fortissimi che assomigliano a spari ma non hanno il coraggio di aprire e per questo chiamano la sorella di Anna Velia. Ma perché Camillo Casati stampa ha trasformato quello che doveva essere un drammatico addio in una carneficina perché Camillo nutriva sicuramente un forte astio per la coppia gli voleva rovinare uccidendosi davanti a loro voleva che il loro amore la loro relazione fosse per sempre macchiata dal suo sangue in modo da rimanere sempre in mezzo a loro in qualche modo però poi trovandosi davanti a loro così belli così innamorati cambia piano rivolge il fucile prima verso di loro e poi verso se stesso insomma il suo aristocratico aplomb si è andato a far friggere nelle questioni di cuore in amore il dolore l'invidia di trovarsi davanti insieme gli aveva armato la mano quindi potremmo finirla qui caso chiuso invece no in questa storia signori miei c'è molto ma molto di più un prurito una morbosità che trova sfogo dettagli peccaminosi nascosti impensabili che intrigano più del fattaccio stesso Anna Casati Stampa è il caso di dirlo è anzi era una donna bellissima famosa per le sue mis accollata affasciata di seta ma comunque sempre perfetta sempre stupenda i Casati Stampa erano invitati e ben accetti in ogni evento mondano nelle migliori feste nei circoli della caccia nei tornei di bridge e a loro volta restituivano inviti nella loro tenuta da caccia quindi una vita che da fuori risulta come spensierata patinata glamour il ritratto del perbenismo del borghese il problema è che dopo il fattaccio i giornali fanno a gara per pubblicare molte foto della coppia e di Anna in particolare alcune sono foto estremamente consone adeguate ineccepibili altre foto invece strettamente private della coppia regalano una luce del tutto nuova sulla loro relazione ma che foto sono cosa ci raccontano e c'entrano qualcosa con il delitto se volete vederle ora io vi racconterò questa parte della storia potete vederle su internet io non posso pubblicarle perché vige la censura su youtube sì perché queste immagini sono forti anzi fortissime soprattutto per quel periodo storico lì sono al limite di una cosa che inizia con P e finisce con IA avrete capito quindi i giornali queste foto se le stanno letteralmente litigando sono foto torbide provocanti da censura e il soggetto di queste foto è sempre lei Anna Casati stampa vederla posare senza veli senza strati di seta affasciarla è qualcosa che sciocca l'opinione pubblica fanno tutti gli scandalizzati ma in realtà appunto la situazione è pluriginosa molto ricercata tutti le vogliono vedere queste foto diciamocelo e tutti vogliono sapere qualcosa di più questa è una collezione privata del marchese Camillino per cui si scatena una vera e propria asta di riservatezza di decoro non si parla le foto vengono vendute a prezzi esorbitanti per 12 foto un notissimo giornale sgancia 400.000 lire ma comunque è un investimento che rende molto perché con un'immagine forte e smaliziata della Casati un mensile per uomini vende oltre un milione di copie tra questi giornali vi cito la rivista Man e l'Europeo ma sono in tantissimi giornali a contendersele sì perché i lettori non possono davvero credere ai loro occhi quella donna seminuda atteggiata in pose provocanti è proprio lei è la stessa marchesa perfetta fasciata da raso e seta sì è proprio lei Anna Casati Stampa sembra avere una forte dualità è una donna capace di comportarsi perfettamente nelle occasioni mondane come una perfetta marchese lasciando però trasparire annusare un velo di popolarità di veracità che piace davvero molto a tutti nobili compresi ma chi è questo fotografo sé? chi è che gli ha scattato quelle foto? beh queste immagini appartengono proprio a lui a Camillo Casati Stampa le foto sono conservate in un libro foderato di velluto verde il diario del marchese tenuto come un trofeo sopra la scrivania non è noto come questo materiale riusci ad arrivare alla stampa ma ci arrivò ci arriva sempre dissero che in tutto tra il libro e i cassetti di questo prezioso scrittoio il marchese avesse una collezione di circa 1500 foto birichine ma in realtà erano molte di più ok abbiamo uno scoop giornalistico che fa guadagnare molto i giornali e che fa appassionare i lettori ma in queste foto in realtà ci può essere la vera chiave del delitto il movente sì perché a scattare quelle foto è stato proprio l'orgoglioso casatistampa il buon marchese che esibiva sua moglie come se fosse un trofeo solo che non era da appendere ma da sfoggiare nel diario di velluto verde venivano descritti molti segreti della coppia e molti triangoli amorosi insoliti ma ora fermiamoci qui vi lascio con un po' di prurito addosso e facciamo un passo indietro perché è il caso di raccontarvi dal principio la storia di questa relazione e delle sue mille sfaccettature perché ormai è chiaro a tutti che il menage matrimoniale tra i due non era lineare non è una semplice gelosia quella che è sfociata in un fatto di sangue no c'è molto molto di più sì è vero è certamente un dramma della gelosia ma è diversa da quella a cui siamo normalmente abituati non è una semplice non accettazione del divorzio o dell'abbandono ma qualcosa che affonda nelle viscere in un livello quasi infantile ed ipico incarnato però da un soggetto adulto come il marchese intelligente e colto un mix assurdo che però possiamo solo comprendere appieno se ricostruiamo la storia della loro relazione e allora facciamolo Anna è di umili natali nasce in provincia di Benevento in un paesino che si chiama Moroso non nasce né nobile né marchesa prima di conoscere Camillo è solo Anna Fallarino figlia di un impiegato e di una casalinga i suoi genitori a quanto pare non hanno avuto un matrimonio felice la sua è un'infanzia assegnata anche dalla guerra durante la guerra Anna è una giovinetta e come molte donne si dà da fare aiutando i soldati portando loro da bere o facendo piccole commissioni ed è qui che si rende conto che ha un enorme potere sugli uomini gli uomini la guardano le ammiccano e lei si sente desiderata insomma sono comunque galanti si rende conto che il suo corpo e la sua avvenenza possono essere delle leve con cui elevarsi ma è impossibile rimanere a Benevento per lei perché dopo la guerra quel poco che è rimasto se lo porta via il terribile alluvione dell'ottobre del 1949 quando si dice piove sempre sul bagnato Benevento è una città che è uscita da poco dalla guerra costretta a fare i conti con le macerie e con la povertà quando viene completamente travolta nel vero senso del termine dalla potenza dell'acqua che viaggia agli 80 km orari quindi Anna fugge come molti altri giovani va a Roma a 16 anni e si trasferisce da suo zio maresciallo di pubblica sicurezza qui si fidanza con un vicino di casa di nome Remo figlio di un macellaio il suo primo fidanzato che dopo la tragedia dirà questo di lei siamo stati fidanzati per tre anni non riesco a credere che sia finita così i giornali parlano di cose strane che avrebbe fatto col marchese io la ricordo come era allora una ragazza semplice capace di badare a se stessa posso solo ricordarla così e voglio dirlo a tutti che adesso parlano di lei come l'ultima delle donne Anna non sarebbe mai diventata così se qualcuno non l'avesse traviata inizialmente Anna lavora come commessa a Roma tentando di sfondare come attrice e modella sono tantissime le ragazze di provincia che arrivano a Roma alla capitale con la speranza di sfondare nel cinema e Anna sicuramente possiede doti fisiche ricercate all'epoca secondo il modello femminile in voga purtroppo però questa strada non la porta molto lontano perché appare solo pochi secondi nella pellicola Totò Tarzan con Totò ma non è fortunata non viene notata non sfonda celebre è l'unica battuta che Totò le fa pescandola da un gruppo di giovani Anna ha una corona di fiori fra i capelli e lui le chiede lei come si chiama e lei risponde Ranocchia e Totò le dice bene Ranocchia andiamo a fare un girino questa è la carriera professionale di Anna nel cinema quindi Anna fa la comparsa ci prova ma il suo plomb non è tale da farla notare perché ci sono moltissime altre ragazze come lei altrettanto belle altrettanto spigliate è il 1950 e in questo anno avviene la svolta incontra l'ingegner Giuseppe Peppino Drommi Giuseppe Drommi detto Peppino 28 anni rampollo di una famiglia bene Peppino si innamora subito di lei e quella è appunto la svolta nella sua vita perché Anna prega la madonnina perché quel matrimonio avvenga e avviene con Peppino si spalanca per Anna il giro della Roma bene fatto di serate mondane di ricevimenti di vacanze e per lei che è una ragazza semplice che arriva da Benevento è un mondo irresistibile bei vestiti pellicce gioielli viaggi ottimo cibo Peppino suo marito è molto generoso e la scalata sociale di Anna è assicurata è una donna molto desiderata molto attraente una sera ad un party a canne nel 1958 il playboy più famoso del mondo al momento Porfiglio Rubirosa resta ammaliato dalla sua avvenenza inizia un corteggiamento garbato ma comunque invadente e quando poggia una mano sulla spalla nuda di Anna Peppino Drommi è gelosissimo e molto arrabbiato tra i due nasce una discussione molto accesa ed ecco che in aiuto di Peppino arriva un suo carissimo amico pronto a difendere l'onore della donna di Peppino e questo qualcuno è proprio il gentil marchese Camillo Casati Stampa anche lui si scaglia contro quel volpone di Porfiglio che tra le altre cose è anche un pugile dilettante quindi è molto coraggioso quella sera i nostri aristocratici amici distruggono il locale dove si trovano insomma si parla di tavolini frantumati e di sedie rotte ma come mai tanti nobili sentimenti nei confronti di Peppino e di Anna e beh certo Camillo Casati è sicuramente un uomo che crede molto nel valore dell'amicizia o forse c'è anche un piccolo dettaglio in più anche Camillo ha perso la testa per Anna Fallarino è impazzito altro che nobili sentimenti quella donna deve essere sua Camillo all'epoca dei fatti non è un uomo libero anche lui è sposato con una ex subrette Lidia Izzo un pochino più anziana di lui e con cui ha una figlia Anna Maria ma per Camillo la cosa non è un problema insomma lui è abituato ad ottenere tutto ciò che vuole Camillo infatti è un uomo molto ricco e molto annoiato erede di questa grande fortuna disseminata tra Roma e Nord amante della caccia dei cavalli dei viaggi del lusso nulla facente cioè qualcuno che non fa nulla nel vero senso del termine quindi ha una vita dorata ma dopo un po' noiosa quindi ha bisogno di continui stimoli appartiene alla cosiddetta aristocrazia nera ormai in estinzione quindi una classe sociale ancora più al di sopra delle classi sociali benestanti e borghesi superstite di un tempo che ormai non c'è più la vecchia nobiltà tanto ricco Camillino che possiede addirittura un'isola l'isola di Zannone vicino a Ponza che non è un'isola particolarmente ricca è uno scoglio con qualche capra ma è particolarmente adatta alle battute di caccia e soprattutto alla riservatezza e intimità ma ci arriviamo dopo vi stuzzico un po' il marchese ottiene sempre ciò che vuole e vuole Anna quindi non fa molta fatica entrambi chiedono l'annullamento alla Sacra Rota tre anni dopo il loro primo incontro ma prima piantano un bel paio di corna ramificate ai rispettivi coniugi ottengono l'annullamento anche se uno si domanda con quali ragioni forse con le ragioni dei soldi ma comunque va detto che il divorzio fino al primo dicembre del 1970 non era consentito quindi qualsiasi nobile che volesse distruggere la sua precedente relazione comunque togliersi dall'impegno di un precedente matrimonio passava dalla Sacra Rota quindi la Sacra Rota era utilizzata dai ricchi per sciogliere del tutto vecchi legami matrimoniali e potersi impegnare in nuovi legami matrimoniali piccola parentesi su Peppino Drommi rimane leccarsi le ferite finché non incontra un'altra donna e si unisce nuovamente in matrimonio con la Contessa Patrizia De Blanc Anna è diventata così la Marchesa Casati Stampa un sogno che si avvera arriviamo al peccaminoso viaggio di nozze e per la precisione la prima notte di nozze dei due neus sposi la nostra storia sta per divenire un pochettino piccante oltre che avvelenata Camillo e Anna si sposano civilmente in Svizzera nel 1959 e in chiesa nel 1961 e ora immaginatevi questa scena è Svizzera il Marchese è in poltrona e sta scrivendo il suo diario le sue memorie di fuoco che poi verranno ritrovate Anna è appena uscita dal bagno ed è coperta solo di un asciugamano quando bussano la porta dalla porta entra un cameriere un bel giovane che tra le mani però non stringe nulla anzi tempo dopo sarà lui ad uscire dalla stanza con un bel rotolo di soldi tra le mani durante questo viaggio infatti Camillo rivela subito alla sua Anna i suoi gusti per quanto riguarda il talmo nuziale che non sono esattamente ispirati da Santa Madre Chiesa e neanche dal diritto di famiglia in tema di coniugio chiede e spinge Anna ad intrattenere rapporti con altri giovani da lui scelti e da lui pagati mentre lui si gusta lo spettacolo guardando e prendendo appunti e scattando queste fotografie piuttosto sé se volete il termine tecnico il nostro marchese è un voyeur la passione triolistica è ciò che domina il nostro marchese ovvero quando una persona consapevolmente e volontariamente induce il proprio partner a vivere esperienze intime con altre persone allo scopo di riceverne gratificazione a sua volta intima ovviamente e così viene suggellata la prima notte di nozze di Anna un imprinting di ciò che sarebbe stato dopo così il marchese guarda Anna e poi scrive Anna è stata splendida ha capito subito divertendosi un mondo e la storia da qui si ripete una poi due poi mille volte e ovunque il luna di miele a casa nelle vacanze sempre fino alla fine dei loro giorni ed anche qui è il marchese a decidere che come il gioco ha avuto un inizio a un certo punto deve avere anche una fine ma che tipo strano è il nostro marchese il marchese non viene descritto esattamente come un simpaticone ad esempio con i domestici che per lui probabilmente sono rimasti i servi della gleba a tal proposito nel suo diario Anna scrive questo Camillo ha cominciato la sua guerra personale con i camerieri fin da bambino pare che avesse il vezzo di prendere i domestici a calci negli stinchi il maggiordomo personale di Camillo si chiama Felice un nome e una garanzia Felice dà pure un carico da 90 e lo descrive come un uomo pieno di contraddizioni noi domestici lo ricordiamo ineccepibile un gran signore nelle maniere per esempio talvolta egli trovava sconveniente rivolgere direttamente la parola alla servitù e allora ci parlava per interposta persona anche se ci trovavamo a un passo da lui certo un signore nelle maniere ma poi un giorno picchia sangue un cameriere che lo sveglia troppo presto e la cosa finisce in pretura un affabile buon tempone il nostro marchese attraente affettato e poi spietato e perverso all'occorrenza un tipo che ha studiato in un collegio svizzero ama andare a caccia come un vero nobile di altri tempi e poi ama fare le parole incrociate come un plebeo così dice ha tantissime dimore splendide e quando soggiorna a Milano a Palazzo Soncino scende in strada portandosi delle uova sode dentro ad una borsa poi entra in un bar di Piazza Santa Maria Beltrade dove resta tutto il giorno chiacchiera con gli avventori del bar ordina e beve fiumi di champagne e intanto sbuccia e mangia le sue uova sode poi torna a casa verso sera dopo aver lasciato centomila lire di mancia al fortunato cameriere che lo aveva servito sembra così rispettabile così aristocratico così perfetto e poi improvvisamente diventa furioso irrascibile arrivando a perdere ogni contegno sempre felice il maggiordomo con un nome che ha un paradosso racconta che un giorno Camillino il Marchese è la guida di una Rover 3000 quando inizia a colpire a più riprese una vettura colpevole di ostacolargli la manovra per uscire dal cortile condominiale di Via Puccini in sostanza abbiamo Crudelia de Mon travestita dal maggiordomo Edgar degli aristogatti perché ci assomiglia davvero tanto che scardina tutto quello che intralcia il suo nobile passaggio poi ovviamente paga tutti i danni alla macchina che ha completamente distrutto perché è rimasta solo la carcassa della macchina dopo il suo passaggio ma intanto insomma si è sfogato questo è per descrivervi un po' chi ha il marchese ma torniamo alla passione segreta del marchese per tutto il matrimonio di Camillo e di Anna il marchese annota con dubita di particolare il suo corredo piccante insieme alla moglie una collezione privata e segreta da sfiorare e da toccare e con cui godere ama tenerla sulla scrivania dove riceve amici e personale a disposizione dentro ad un quaderno di raso messo sullo scrittoio o dentro al cassetto questo diario scottante verrà poi trovato dagli inquirenti insieme ad altro materiale che lui scatta come delle fotos della marchesa che è sola insieme ad altri uomini anche a più di un uomo lui è molto avido annota tutto probabilmente perché teme che ciò che vede poi sveadisca nel tempo ha bisogno di imprimerselo nella memoria per sempre i commenti che lascia in questo diario sono gli stessi che potremmo sentirgli dire ad una corsa di cavalli quindi dà dei voti e dà dei complimenti piuttosto grotteschi scrive questo al mare con Anna ho inventato un nuovo gioco l'ho fatta rotolare sulla sabbia poi ho chiamato due avvieri per farle togliere granelli dalla pelle con la lingua oggi Anna mi ha fatto impazzire di piacere ha fatto l'amore con un soldatino in modo così efficace che da lontano anch'io partecipato alla sua gioia mi è costato 30.000 lire ma ne valeva la pena è molto probabile che Camillo e Anna non avessero rapporti o pochissimi rapporti non c'è traccia dei rapporti con Anna nei suoi diari perché lui raggiunge il suo piacere sempre guardandola e fotografandola e preferisce il piacere intimo del dopo di quando è da solo e rivede il suo materiale cioè ciò che ha vissuto per interposta persona è contorto il nostro marchese diciamocelo è lui che organizza gli incontri ma anche le scenografie come ad esempio il corpo nudo di Anna arrotolato nella sabbia e poi insomma con questi due avieri che tolgono la sabbia con la lingua è lui che decide quindi come mettere in posa Anna che pare sempre più come un oggetto per lui Camillo è un voyeur ma per lo psicanalista Emilio Servadio che si occupa del caso casa di stampa in quest'uomo c'è anche molto di più noi pensiamo che il voyeur debba vedere ma non è soltanto il vedere per Camillo è il raccogliere il materiale fotografare scrivere catalogare e organizzare la vita intima della moglie e della sua ma anche quella delle altre persone che vanno insieme ad Anna è questo che gli dà piacere non è il vedere ciò che vede ma essere lui a decidere tutto si sente onnipotente forte dominante un burattinaio che dirige e manipola il destino non solo della moglie ma anche dell'uomo o degli uomini di turno che stanno con la marchesa per lui questi uomini sono tutti soggetti anonimi senza un volto che servono solo al suo scopo nessuno di loro per lui ha un'identità almeno fino a massimo minorenti ma lo vedremo poi alcuni uomini dopo il delitto parlano e descrivono la coppia e i giochetti a cui dovettero partecipare un bagnino dice erano degli zozzoni venivano sulla spiaggia e si mettevano nudi un giorno mi hanno invitato a stendermi tra loro l'ho fatto e mi sono sentito sfilare il costume poi quella donna mi ha tirato sopra di sé e ha caduto tutto sotto gli occhi del suo compagno e alla fine lui era talmente contento che mi ha dato 5.000 lire di premio la coppia ha questo rifugio di cui vi ho parlato un'isola di proprietà di Camillo l'isola di Zannone di quest'isola si dice lui andava a caccia e lei ammazzava il tempo in altro modo tipo immergendosi nuda nelle antiche piscine romane o intrattenendosi con altri uomini sulla spiaggia l'isolamento di questo luogo che è fuori da tutto lo rende perfetto per incontri a più persone non posso usare certe parole quindi incontri a più persone e parti mascherati molto spinti lo scenario esotico che si vede in quasi tutte le foto di Anna dove Anna appunto viene ritratta senza veli è sempre quest'isola di Zannone quasi sempre e nei fini settimane il mare attraeva yacht con a bordo duchi varoni contesse vippe milionari tutti pronti a partecipare e a trasgredire insieme ai casati stampa certo lo sappiamo bene in mezzo a tutta questa roba ci sono anche delle mezze verità ci sono anche delle fandonie come ad esempio si racconta di questa sala degli specchi dove da questa stanza si potevano spiare gli amplessi rapporti estremi non è detto che tutto ciò che si è detto scusate il gioco di parole sia vero oggi a Zannone non c'è più nulla nemmeno un bar solo le pecore è rimasta solo questa villa picco sul mare una costruzione illegale eretta negli anni 30 sul sito archeologico un tempo questo luogo antico era un posto di meditazione e di preghiera che poi si è trasformato in un posto di trasgressione e lussuria quando le notti brave finirono lo stato reclamò l'isola e la villa venne chiusa per sempre con tutti i suoi segreti la trasgressione avviene però anche sul litorale romano sulla spiaggia a Coccio di Morto ad esempio vicino a Fiumicino o a Ostia il marchese selezionava alcuni passanti e prediligeva a Vieri quelli che lui definiva i burini soldati a cui donava dalle 30 alle 50 mila lire per possedere la moglie a cielo aperto o in qualche cabina mentre lui fotografava e si godeva lo spettacolo Camillo non sceglie mai uomini del societo sociale ma uomini di estrazione più umile che adesca fuori da un bar oppure su spiagge per nudisti e l'importante è che siano però belli giovani e attraenti sceglie pescatori bagnini e li sceglie nelle zone più sporche più popolari lontane dall'agio a cui è abituato in questo c'è del sadismo dicono gli esperti perché il sadico non cede ciò a cui tiene agli amici alle persone che reputa alla sua linea o sopra la sua linea ma più in basso molto più in basso dopo il delitto ci si domanda ma perché Camillo assiste solo a questi incontri perché non partecipa e perché è così attratto dall'estetica maschile quindi perché sceglie sempre dei giovani molto aiutanti e belli ci sono tante teorie quella più insistente riguarda una latente e poi sempre più manifesta omosessualità di Camillo in realtà lui secondo questa teoria formulata dagli esperti aveva dentro di sé il desiderio nascosto di essere al posto di Anna insieme all'amante di turno per lui quel tipo di rapporto era impossibile era inconfessabile ma ha desiderato un'altra ipotesi invece è che lui si identifica con quegli uomini per poter giacere con la moglie non riesce ad avere un rapporto con la moglie da solo e quindi ha bisogno di uno strumento per provare piacere perché secondo questa teoria edipica da edipo per Camillo la donna incarnava l'archetipo della madre quindi giacere con una donna per Camillo era incestuoso perché era come possedere la propria madre e quindi quando lui aveva un atto intimo con un'altra donna pensava alla madre quindi lui non riesce ad avere dei rapporti con Anna per questo motivo ha bisogno di uno strumento per poterlo fare allora fino ad ora ho parlato di Anna come di un oggetto e questo è rivoltante che ruolo ha Anna che cosa prova stando sempre ai diari del marchese ad Anna questa situazione piaceva sebbene la donna venisse mercificata in continuazione ed umiliata dall'uomo che aveva sposato pare che a lei le stesse bene pare anche che Anna fosse succube del marito che lo seguisse davvero in tutto per lui aveva iniziato a sparare nelle battute di caccia per lui aveva imparato ad andare a cavallo perché le donne casate stampa sono ottime amazzoni per lui gestiva pensate anche un allevamento di cinghiali forse ad Anna tutto questo piaceva davvero molto i lussi i vizi gli amanti o forse si sentiva in difetto verso quel mondo dorato che non le apparteneva così diverso dal suo e aveva timore di perderlo forse voleva farsi accettare a tutti i costi era arrivata fino a lì per Dinci e quindi questa fame di riscatto sociale giustificava tutto anche la sua morale la sua stessa anima una persona Anna sicuramente in parte spregiudicata perché ricordiamocelo è consenziente il cui obiettivo principale era la sua ascesa sociale salendo salendo così in alto non riusciva più a guardarsi indietro a quella che era stata a fianco di quell'uomo il più potente del momento tra i più potenti si era macchiata poco alla volta consapevole di farlo quello era il prezzo da pagare forse faceva moltissima fatica o forse no io non so dirvelo ma nelle varie riviste l'agogna sociale è garantita molti condannano molti si indignano ma mentre lo fanno intimamente fremono è da qui per parlare un po' di storia dai casati stampa che la censura si abbassa e che iniziano ad apparire riviste proibite i primi anni 70 sono gli anni del cambiamento i costumi cambiano cambia il decoro e la morale la pillola anticoncezionale viene venduta in farmacia e i rapporti prematrimoniali non sono più un tabù e a scuola si inizia a parlare anche di questo tipo di educazione i casati stampa diventano quasi un simbolo di questo momento storico un mondo sommerso che viene prepotentemente a galla sì perché questo è il primo vero scandalo osè di una sessualità che è stata troppo a lungo imbrigliata che inizia a liberarsi ma al di là di tutta questa cornice perché allora Camillo Casati stampa dopo aver voluto la bicicletta si era stufato di pedalare perché ha tolto la vita a se stesso alla moglie e al giovanotto di turno cosa ha sconvolto il marchese fino a quella carneficina una cosa molto semplice in realtà un sentimento che non lo riguarda l'amore ma per questo dobbiamo fare un altro passo indietro Roma gennaio del 1970 è una festa come tante altre beneficenza per ricchi annoiati il pane dei Casati stampa bisogna rallegrare un po' la serata Anna è sola seduta ad un divanetto mentre in disparte il marchese le ha dato istruzioni e la osserva scopri le gambe e accavallale lascia che ti ammirino e qualcuno anzi più di uno ammira e in particolar modo un giovane che si chiama Massimo lui si imbuca a queste feste fa l'imbucato di professione in questo Massimo è simile ad Anna perché proviene dal basso ma con ogni mezzo vuole entrarmi i giri giusti fa amiciziani locali scrocca cene al tempo lo definiscono come uno dei tanti vitelloni capelloni affamati di ascesa sociale Massimo è un bel ragazzo un rubacuori ha una fidanzata ufficiale ma poi neanche molte altre tra cui un volto famoso Lola Fanana una ballerina celebre quella sera Massimo ci prova anche con Anna del resto è una donna molto sensuale molto bella ricchissima Massimo non sa che poco più in là il marito della Marchesa il Marchese si sta sfregando le mani perché ecco sopraggiungere un altro bel giovanotto da aggiungere alla mia lista proibita così a noi Massimo iniziano a frequentarsi perché tutto procede come da copione prima in un albergo della città poi a casa di Marchesi lì in via Puccini 9 il Marchese il marito non è un ostacolo chiaramente anzi è felice come una Pasqua gli incontri sono molto appassionati c'è chimica meglio di così Massimo dal canto suo non crede alla sua buona sorte una Marchesa bellissima rapporti soddisfacenti un marito che approva e ovviamente riceve anche dei doni in cambio non sappiamo di quale natura ma lo possiamo immaginare inviti soldi regali agi viaggi chissà Massimo infatti diventa la compagnia fissa dei Marchesi è il perfetto triangolo amoroso ecco loro all'isola di Zannone alle battute di caccia alle feste ma è Camillo che dirige l'orchestra come sempre ecco loro sempre scrive fotografa osserva ma poi succede qualcosa che il Marchese non aveva considerato qualcosa di mai accaduto prima l'anticamera della tragedia il Marchese diventa il terzo incomodo quello di troppo tra Anna e Massimo perché Anna si innamora di Massimo e forse anche Massimo di lei la donna è sempre meno incline a soddisfare le fantasie del marito è stanca la giustificazione quando uno ama diventa tutto lecito diventa sempre più assurda per lei scrive questo non so come fanno stancarsi vorrebbe che io facessi l'amore continuamente e non solo con lui anzi quasi mai con lui all'inizio quando mi parlava di certe libertà e di rapporti promiscui credevo che lo facesse per recitarsi o per incuriosirmi non ho più pace sono sfinita non ce la faccio più mi pare di essere diventata la peggio delle mie puntini puntini non me ne importa più niente di fare la trasgressiva e pensare che quando mi sono messa con Camillo io lo amavo da impazzire direi che è chiaro quindi Anna inizia a meditare la fuga da quella prigione dorata con Massimo sembrano due ragazzini lui tutti i giorni le lascia dei bigliettini lei gli regala delle macchine dei gioielli ma poi Massimo le sta anche accanto quando Anna è ricoverata nulla di grave a livello di malattie è una delle prime donne a rifarsi il seno pensate è una delle prime donne a rifarsi il seno all'epoca comunque l'intervento non me ne intendo però è stato anche un intervento di un certo tipo e quindi Massimo sta con lei e le fa compagnia in ospedale decide di fuggire pensa addirittura di raccontare i vizi del marchese e poi di avere una sua libertà magari anche una rendita all'inizio Camillo non è preoccupato pensa che Anna si sia fatta prendere troppo dal gioco ma che sarà solo una nuvola di passaggio nella loro unione ma poi quando sono insieme inizia a sperimentare un sentimento nuovo la gelosia si indigna per quella mancanza di esclusività Massimo e Anna osano incontrarsi da soli quando lui è fuori alle battute di caccia parlano ridono provano piacere ma quel piacere lui non è invitato che diamine da burattinaio Camillo si è trasformato in un burattino e questo lo sconvolge e dall'inizio della fine quello che lui considerava un oggetto sua moglie si è innamorata l'oggetto si è innamorato del giocattolo scusate se uso questi termini forti ma vi faccio entrare dentro la psicologia del marchese quindi non è il tradimento che lo sconvolge no perché è abituato è la mancanza di controllo di potere il fatto di venire ignorato arriviamo a luglio del 1970 dove i diari del marchese cambiano tono il 7 luglio parlando di Anna il marchese scrive la più grande delusione della mia vita vorrei essere morto e sepolto che schifo piccineria volta stomaco quello che mi ha fatto Anna pensavo che fossimo l'unica coppia legata veramente e invece ad agosto a Zannone Camillo affronta Massimo lo insulta lo aggredisce gli dice Massimo ma come ti muovi balordo non ti attizza mia moglie eppure ti piace quando nessuno mi guarda o metto mancato ora ti faccio vedere io come si fa il 21 agosto scrive sono a terra sono spossato moralmente ancora più fisicamente il 24 agosto scrive io sto letteralmente morendo e ho perso tutto Anna non è più sua e il giorno prima della tragedia Camillo riceve un colpo di grazia un biglietto da parte di Anna se vuoi che io torni a casa non hai che da dirlo sono pronta a perdere Massimo allora qui forse Camillo per la prima volta si rende conto di chi è davvero sua moglie non è un oggetto è una persona che ama che sente e che è anche disposta a rinunciare al suo amore per tornare da lui Camillo quindi capisce di averla persa per sempre capisce di aver perso la presa che ha su di lei lei ormai è di un altro forse si sarebbe rimasta con lui si sarebbe sacrificata ma esclusivamente per non perdere la faccia le apparenze per i propri agi ma niente sarebbe stato più come prima il 30 agosto mentre è in Veneto a questa battuta di caccia Camillo riceve una telefonata di Anna perché i due vogliono parlargli Camillo intuisce forse che è arrivato il momento dell'abbandono e le dice questo no non precipitare le cose se è così fra noi è tutto finito ma tu allora devi uscire subito di casa e lui deve mantenersi venite a casa mia domani alle 18 e 30 e sistemeremo tutto se invece le cose non dovessero sistemarsi io lo rovino magari lo ammazzo a te comunque non succederà nulla stai tranquilla a quel punto pare che al telefono sia intervenuto anche Massimo ma Camillo lo insulta vigliacco marchettaro e attacca più o meno questo è il contenuto della conversazione che ascoltano i presenti Anna è molto preoccupata prima di quell'incontro si rifugia a casa di un amico di Massimo dove beve litri di caffè e fuma come una ciminiera intanto ripete Camillo non minaccia mai a vuoto è l'alba il marchese si alza e abbatte 183 anatre e qui il WWF impalidisce come minimo poi rientra a Roma prima si congeda dagli amici della battuta di caccia promettendo di tornare alla prossima battuta insieme a sua moglie Anna molto fiducioso una promessa che non manterrà perché arriva a Fiumicino alle 18 ed entra a casa con algido a plomb chiede un succo al pompelmo verso le 19.15 Anna e Massimo entrano nel salotto Camillo ha già predisposto tutto nessuno dovrà disturbargli tra le mani il marchese regge una carabina e tutta la sua aggressività repressa spuocia all'improvviso come una marea si ritrova davanti e deve finirli Anna si è appena accomodata in poltrona e lui le spara tre volte e poi due volte a Massimo poi si calma ha distrutto per sempre il suo oggetto d'amore ed ora è disperato si sente vuoto in colpa non può resistere la morte e l'oblio totale è l'unica possibilità gira l'arma verso se stesso e preme il sangue e altro macchia i mobili stile Luigi XIV le tende le sedie vaticane e i quadri la perite autoptica stabilisce che Anna è deceduta già al primo colpo perché ha centrato il petto viene fulminata sulla poltrona dove si era seduta Massimo invece si accorge di tutto e prova a scappare ma è in vano si ripara dietro ad un tavolinetto ma il marchese avanza con il fucile fra le mani e il secondo colpo lo centra la testa le cartucce però sono finite quindi il marchese in silenzio ricarica l'arma e punta la sua gola e l'atto è giunto al termine in strada ci sono degli amici che hanno accompagnato la coppia perché la coppia era spaventata e sentono gli spari e salgono di sopra allertando i domestici loro però non aprono perché hanno avuto delle istruzioni precise sono le 20 quando viene avvertita la sorella di Anna che però riesce ad arrivare solo alle 21.30 felice il maggiordomo ancora non vuole aprire ma poi si convince perché dall'altra parte vi è solo un giallido silenzio le porte del salotto si spalancano infine sull'orrore e il resto è storia anzi cronaca nera che invade morbosamente i giornali per settimane e per mesi gli sciacalli o comunque insomma è il mestiere di chi fa i giornali guadagna da questa storia aumentando addirittura di mezzo milione le copie dei giornali dove Anna viene mostrata nuda senza veli senza rispetto e insieme a lei anche stralci del diario del marchese ovviamente quando capita questo qualcuno ci va sempre di mezzo come Anna Maria la devota figlia del marchese l'unica erede lei decide di abbandonare l'Italia e di far perdere le tracce di sé prima di allontanarsi però la giovane cerca di risolvere alcune questioni controverse del padre come la vendita della villa di Arcore vicino alla quale il padre aveva fatto costruire addirittura una pista da trotto le venne affiancato un tutore per aiutarle la villa viene venduta per mezzo miliardo di vecchie lire una cifra vergognosa irrisoria ma Anna Maria non lo sa da questa vicenda in futuro si aprirà una causa e qualcuno pagherà e verrà chiamato a rispondere l'avvocato Previti che si occupa della vendita ma anche il compratore un personaggio molto noto si chiama Silvio Silvio Berlusconi a questa è un'altra storia qui giusto per darvi dei dettagli la villa di Camillo Casatistampa passa a Silvio Berlusconi che l'acquista Camillo Casatistampa di Soncino riposa secondo le sue precise volontà accanto alla sua seconda moglie Anna Fallarino nello storico mausoleo Casatistampa nel cimitero urbano di Muggio vicini per l'eternità come lui desiderava bene anche il video di oggi è terminato come sempre io vi ringrazio per avermi seguito spazio ai vostri commenti che come sempre leggo noi ci vediamo ogni martedì alle ore denti al prossimo video grazie a tutti